Amici di te le conoscenze, ecco il nostro eroe che si sta preparando alla guida, esercizio skid, ovvero quell'attrezzo all'asse posteriore che fa perdere l'aderenza alla macchina a una velocità anche molto bassa, Mini Cooper S la vettura che stiamo testando, HD Mini il telefono che sta girando questo servizio per voi. Luca è pronto, sta ricevendo le ultime istruzioni dall'istruttore e vedremo quanti danni farà. Per partire gli sta spiegando l'istruttore come tenere le mani sul volante, ovviamente 9 un quarto, bisogna andare all'incrocio ma bisogna dare ancora più volante in questo esercizio perché si arriva al controsterzo completo e si arriva a fine corsa del volante. ecco che il nostro eroe parte, non ci salute troppo teso, esercizio che si fa tutto in prima a bassissima velocità, come vedete forse un po' troppo bassa la velocità, ecco qua che inizia la prima sbandata, poi farà un secondo passaggio a velocità più sostenuta, il primo passaggio è solamente di test e di demo, diciamo che va così piano che non riesci neanche a mettere attraverso la macchina ma questo non glielo diciamo, lo ascolterà solo riguardando questo filmato e riguardando se si vergognerà della sua scarsa performance, no stiamo scherzando, ripetiamo, il primo passaggio è solamente di dimostrazione quindi velocità molto bassa, ecco adesso il secondo passaggio dovrebbe intraversare un pochino di più la macchina, ecco infatti come vedete la macchina si intraversa un po' di più, ecco pronto quel controsterzo, eccolo. e si prego del secondo passaggio che dovrebbe fare più veloce.